Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Denise Esposito si espone sui social in merito al compagno Gigi D'Alessio e fa il pieno di commenti. Cosa ha detto la ragazza napoletana? Denise Esposito si è esposta sui social parlando del suo compagno Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Francesco nato il 24 gennaio 2022. Si è trattato del quinto figlio del cantante neomelodico Partenopeo, arrivato dopo Claudio, Ilaria e Luca, nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato, durato dal 1986 al 2006. E dopo Andrea, avuto dalla collega Anna Tatangelo nel 2010, una storia sentimentale intensa, quella di Gigi, che al messaggero qualche tempo fa ha confessato. Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un puttan asterisco ere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli. Li ho. Li abbiamo. Viziati. Storie d'amore che hanno portato le gioie dei figli e i dolori delle separazioni. E anche tante polemiche. Prima tra tutte la differenza d'età nella coppia. Denise Esposito. Le parole su Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio ha scelto donne molto più giovani di lui. E questo ha fatto storcere il naso a molti. A parte la moglie Carmela. Con la quale ha solo un anno di differenza. Subito dopo c'è stata la bella Anna. Di 20 anni più piccola. Oggi si accompagna a Denise. Giovane napoletana di ben 26 anni più giovane. Lei ha infatti 31 anni e lui 57. E con la quale non esclude di sposarsi ancora. Lo ha ammesso nella già citata intervista. Dove ha dichiarato al giornalista che gli chiede se si sposerebbe ancora. Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà. Molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro. Anzi. Non lo escludo. Un amore grande quindi. Quello tra Gigi D'Alessio e Denise Esposito. Nonostante molti pensino che lei gli stia accanto solo per interesse. Nelle ultime settimane la donna ha pubblicato una bella foto che li ritrae felici e sorridenti in vacanza. Accompagnata dalla didascalia. Si to sapesse dicere a cussì. Si te sapesse dicere che esse sei accento grave. Io tutte vot non nascesso pazzo pe tu fa capì. Ovvero. Se sapessi dirtelo così. Sa sapessi dirti sì. Io tutte le volte non impazzirei per fartelo capire. Parole tratte da un brano del compagno. La foto ha raccolto decine di commenti entusiasti tra cui. Lei dolcissima. Soprattutto innamorata. La differenza d'età è una k asterisco asterisco ata. L'amore non è una questione anagrafica. Finalmente vedo Gigi sereno. Era lei l'unica donna per lui. Il resto è superato. E. A prescindere che siete bellissimi insieme. Ma io ho notato che da quando è entrato nella tua vita è più sorridente e più giovane. O ancora. Con tutto il rispetto per le altre credo fermamente che tu chiocciola Gigi d'Alessioria l'abbia trovato la donna giusta per te. Bella semplice. Umile e di classe. Vi auguro una lunga vita insieme perché siete una meraviglia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.